Trilli Campanellino mettimi un calcio di punizione pieno di stelline al momento giusto della partita al 44esimo, la beffona dopo un bel primo tempo del libro, che bello che sarebbe Trilli che Calliope è la musa della poesia elegiaca ti assista si sono affacciati tutti là in alto, Apodita, Atene, Mercurio ha tolto i calzari per risultare vai, Trilli Campanellino, mettimela all'incrocio, c'è anche Esedor, ecco Trilli, il tiro gol, eccolo là, con la deviazione di alta tensione Pippo, il gol, il gol Pippo mio alta tensione, alta tensione, Pippo mio, Pippo mio, Pippo mio, Pippo mio, Pippo mio, Pippo mio, alta tensione Inzaghi, la deviazione di Omero, di Omero, di Omero, Pippo mio, come in un derby, Pippo mio, la beffona, la beffona, Pippo mio, la beffona, l'ho detto che al 40 si segnava, Pippo mio, la beffona, perché verità vanno in più il Liverpool, la beffona, musica e magia, palla dentro per Pippo, in posizione regolare, il tiro, gol di Pippo mio, gol di Pippo mio, gol di Pippo mio, alta tensione, alta tensione, alta tensione, Sandrino Pizzidini ti voglio bene, sei più bello di Claudia Schiffer, alta tensione, 2-0, impazzisco, Pippo mio, Pippo mio, sono in piedi, Pippo mio, Pippo mio, splendida apertura di Kakà, e Pippo mio, la metti in diagonale, Pippo, Pippo, Pippo mio, vai sotto la tua curva, Pippo, bacio la tua maglia, Pippo mio, doppietta, la gloria, Pippo mio, 2-0, a 8 dalla fine, Pippo mio, 2-0, a 8 dalla fine, Pippo mio, è come la tolta e la messa morbida, come un massaggio col siero alla vela grana. Allora, dopo questi gol straordinari di Super Pippo, andiamo subito a leggere la nostra ultima e-mail di questa puntata. Caro Milanciani, sono Emiliano da crema, Kakà ha mantenuto fede alla sua promessa, mi ricordo che ai segni particolari aveva dato appuntamento alla prossima stagione, mi fate rivedere quei momenti così emozionanti? Caro Emiliano, hai proprio ragione, Kakà aveva promesso ai suoi tifosi che sarebbe rimasto al Mila e allora vediamoci insieme quei momenti così belli e significativi. Vediamo. Siamo venuti fin qua? Io del Senere Kakà Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua, E Siamo venuti fin qua! Siamo venuti fin qua! Grazie a tutti. Grazie a tutti e a tutti che hanno partito di questa puntata e ci vediamo alla prossima stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.